Caserma dei Carabinieri in Calabria. Allora c'era un maresciallo nella caserma che aveva trascinato l'appuntato. Dice appuntato, dice ma sono mesi e mesi con il bambino, ha detto ma come mai? Dice che è successo? Ha detto l'appuntato del maresciallo, ha detto veramente maresciallo, ha detto mi sono laureato in logica e quindi ha detto mi hai voluto preparare la tese, insomma hai passato un pochino i mesi, hai chiesto un permesso di studi. Ha detto la logica, ma scusa dici che è questa logica di fare il maresciallo all'appuntato? Dice maresciallo non è una cosa facile chissà, ha detto è una cosa che tu pensi, a parte da un presupposto, no? Pensa una cosa, poi vai un'altra e alla fine è una cosa logica insomma. Avete capito maresciallo? E questo fa no, veramente ha appuntato, ha capito niente. Ha detto, ha appuntato fatemi un esempio, ha detto un esempio facile facile, terra terra, che io ho deciso dove hai studiato, sogno un gioccio. Ha detto va bene, dice appuntato maresciallo, ma vi faccio un esempio facile facile. Ha detto allora, l'acquario, vi piace l'acquario? Sì. Ha detto l'acqua vi piace? Sì. I pesci? Sì. Ha detto, il mare vi piace? Sì. Ha detto, allora dice, al mare ci sono anche tante belle donne che camminano in bichine, belle fimmie cose. Quindi ci vi piacciono i fimmie? Sì sì, ha detto come? Ha detto quindi siete partiti dall'acquario e siete arrivate alle donne in bichine che camminano sulla spiaggia, col culo di fuori e tutto. Questa è la logica. Ha detto maresciallo così l'ho fatto? Ha detto allora ho capito tutto appuntato, grazie, grazie mille, ho capito tutto. E niente allora, un anno dopo maresciallo sconta del colonnello nella caserma. Dice colonnello, ieri ho visto l'appuntato che si è laureato in logica, dice proprio, dice un bravo guaglione, bravissimo. Ha detto vi devo spiegare cos'è la logica. Ha detto colonnello, va bene, spiegatemi cos'è la logica. Allora dice, vi faccio un esempio facile, 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 facile colonne. Ha detto allora vi piace all'acquario? No, allora strecciono.